adesso basta vediamo chi è la vera bolla ma chi sarà questo ramo? e tu chi sei? che cosa vuoi da me? perchè sei qui? ti avviso, questa è casa mia che cosa vuoi da me? guarda che chiamo la polizia lasciami stare mi fa paura ti prego, vattene via guarda che ti do questa in testa aiuto lasciami stare, ti prego lasciami stare allora Dani ho capito che sei una bulla però adesso devi tornare come prima no, così non va bene allora Dani ti perdono, per me possiamo tornare a essere fidanzati non lo so, è brutto così e questo che cos'è? sembrerebbe uno dei fermagli che usa Dani per farsi le cuda ai capelli tutto questo è troppo strano e qui in casa che cosa è successo? guardate, è tutto sotto sopra oh no potrebbe essere che dopo che io e Lisa siamo andati via perché Dani è diventata una bulla magari lei è totalmente impazzita ha dato di matto e ha iniziato a sconvolgere tutta quanta casa nostra però è strano Dani anche da bulla non metterebbe mai tutto in disordine poi questo nel corridoio magari le è successo qualcosa meglio che chiamo qualcuno per farmi aiutare aiuto, aiuto non vedrò quante sono queste? non vedo niente aiuto e queste? non vedo ferma ma si può sapere chi sei? ah, nessuno ma che voce strana che hai ti prego liberami mio tetto liberami mai adesso mi divertirò io e mi prenderò la mia rivincita pronto? Jenny si, tu per caso hai notizie su Dani? come? che significa che non ti interessa che fine fa Dani perché tanto lei è soltanto tua sorella e non più la tua amica no, Lisa non c'è senti non fa niente vieni per favore qui a casa e aiutami a scoprire un mistero per favore ok, ti aspetto ho chiamato Jenny la sorella di Dani che onestamente è l'unica persona che potrebbe aiutarmi a svelare cosa è successo a Dani ah, inizierò la mia vendetta con questo ehi, ehi cosa stai facendo? io ho detto di liberarmi stai zitta no, io non mi sto zitta zitta no ok, mi sto zitta però per favore non mi bagni più ma si può sapere che male ho fatto possiamo fare presto? ho una lezione di Pilates alle 3 e di Dani non mi interessa nulla altro che Pilates come vedi in casa sembra essere basato un uragano ho trovato questo fermaglio per i capelli di Dani in corridoio eh senti ha anche il suo profumo eh no, grazie passo non puzza è il profumo di Dani un buon profumo e poi la porta di casa era già aperta senti lo so che l'ultima volta non è finita molto bene con Dani però fidati Dani non andrebbe mai via di casa con la porta aperta è vero questo è molto strano e tu non hai idea di dove possa essere finita assolutamente no dopo che ho chiamato te ho provato anche a chiamare Dani e risulta staccato il telefono c'è segreteria telefonica di continuo però ha il telefono dietro? non lo so questo è molto strano Robby allora dobbiamo cercare degli indizi quindi mi aiuterai a trovare Dani? sì ma solo perché così almeno non avrò più a che fare con lei ok è già qualcosa devi stare molto attenta perché questo posto è pieno di pipistrelli e insetti orrendi che si mangeranno tutti i capelli no 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 lo prego mi porti via di qui io ho paura insieme degli insetti ehi dove sta andando? che schifo aiuta ma Jenny che cosa stai facendo? sto cercando degli inglesi e perché hai iniziato a parlare con un accento inglese? sono vicina sento che sono qui degli indizi non ci credo ma perché ho chiamato Jenny? potevo chiamare chiunque altro fede o fra no Jenny ho chiamato Jenny non è che parlando come Sherlock Holmes diventi un investigatore inglese super bravo mi faccio lavorare ok tu cerca pure di là io andrò in bagno ma che strana sensazione oh no mi sa proprio che saranno degli insetti o fra la ricerca di indizi mi aveva messo un certo movimento di stomaco Jenny hai trovato un indizio Allora qualche indizio Che sta succedendo Ho trovato un indizio guarda Questo? Ma questo È un sacchiotto che ho regalato io Qualche San Valentino fa a Dani Allora ammetti sei stato fuori a rapire Dani Dov'è Dani? Ma che significa? Quello è un semplice regalo Dov'è Dani? Dove l'hai nascosta? So che l'hai rapita tu Ma se io la sto cercando Sapevi che Dani è stata rapita Calmati Robin stiamo perdendo la pazienza Tu me ne stai facendo perdere? Per favore basta parlare con un accento inglese Non sei inglese E non sei neanche un vero detective E va bene questa volta hai vinto tu Speriamo almeno che Dani stia bene E adesso Solo per te Una bella cascata di scarafaggine Di scarafaggine Un'orissima Che schifo Uno scarafaggine mi era entrato in bocca Hai trovato qualcosa? Ancora no Robby Ho trovato un indizio Ecco perché non ti rispondeva È il telefono di Dani Il telefono di Dani? Fammi vedere Ma Questo non è il telefono di Dani Come no? Fammi vedere No Dani è un telefono rosa E anche una ventosa Proprio come la mia Guarda questa qui Che ti permette tipo di attaccare il telefono Ovunque Guarda Oh è vero Questo non ce l'ha Quindi? È un inizio ancora più grande Perché è il telefono Di qualcuno che è stato qui in casa E se fosse il telefono del rapitore? Ma perché continui a dire che è stata rapita? Non abbiamo indizio su questa cosa Però è molto strano Robby Non può essere uscita da sola Forse In questo telefono Ci sono le risposte che stiamo cercando Solo che ora dobbiamo sbloccarlo E c'è un codice Beh vorrà dire che avremo 12.000 Per così in tag Troveremo la combinazione giusta Non troveremo mai Dani Ti stai divertendo? Te lo dico I miei amici e il mio fidanzato Verranno a salvarmi E la polizia ti arresterà Sì Una volta per tutte E tu finirai in prigione Adesso liberami Se non vuoi fare quella fine Ti sei scordata Che sei sola? Nessuno vuole essere tuo amico Non è vero Io li ho gli amici Solo che ci ho litigato Perché mi volevo vendicare E sono diventato una bulla Ma io lo so Che loro mi perdoneranno E che mi salveranno Hai capito? Dobbiamo sbloccare questo iPhone Potrebbe appartenere Alla persona che Sa dove si trova Dani Ok? Solo che c'è un codice E di solito Dopo 5 volte L'iPhone si blocca Se sbaglia il codice E noi non vogliamo Che si blocchi No 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 Quindi abbiamo poche possibilità Di riuscire a trovare il codice giusto Esatto È un codice fatto da dei numeri Quindi Di qualche numero 1 2 3 4 Non è questo Abbiamo solo 4 possibilità Adesso Scrivete nei commenti Delle combinazioni Che potrebbe avere Questa persona Per sbloccare il telefono Io dico Magari Dobbiamo mettere la data di nascita di Dani Ma perché questo tizio Dovrebbe avere la data di nascita di Dani Beh se l'ha rapita Magari è un'ossessione per Dani Quindi che metto? Non c'è settembre qui Cosa faccio? Metti 2 1 0 09 09 Provo No ti prego No Avanti Spremi le meningi Su su Concentrati Su Così sembra Stai facendo la cacca Robby Esatto Posto di nascita Devo andare No Dove fai? Dovevo trovare il codice? Adesso che faccio? Mentre ero a fare la cacca Mi è venuta in mente una cosa Qual è la tua combinazione Per sbloccare il telefono? La mia password è super creativa Devi disegnare una J con i numeri Una J con i numeri? Sì esatto Super creativa? Eh sì Eh La mia è disegnare Una R con i numeri Abbiamo la stessa password quindi? No In molte persone fanno questa cosa Quindi magari pure questa Eh prova 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 R di lapitore O L di ladro Ancora meglio Va bene Proviamo L di ladro Quindi Deve fare una L E di Così Quindi 1 4 7 8 9 Sì prova Ti prego Si è sbloccato Si è sbloccato Ce l'avevo fatta Fantastico Ok E adesso Vediamo se resisti anche a questo Questa posizione Ero fortissima Ti prego Levamela Dovrà rimanere con la musica assordante Un bel po' di tempo Ha 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 Dobbiamo cercare degli indizi Qualcosa che ci porti Sulla strada del rapitore Per prendere Dani Magari un piano Ci sono Ci sono Eeeh Vediamo cosa ha cercato su internet Magari ha cercato Come rapire Dani Va bene Vai Andare Su internet Gattini carini Mi spieghi perché su internet Questo tizio Ha cercato Gattini carini Forse ha una passione Per i gattini carini Forse non è così cattivo Per rapire Dani Ok Così proprio non va bene Vediamo Se Se ci seguo su youtube Ah si Ah perché Per cercare informazioni Su di noi Noi pubblichiamo Tutta la nostra vita Su youtube Anche sul canale Dani e Robby Life In cui pubblichiamo Dei vlog Di tutta quanta La nostra vita Eh si Allora avanti Sbrighiamoci Cerchiamo Ok ora cerco Allora vediamo Youtube Come app Eccolo ce l'ha E ora cerchiamo Dani e Robby E' una delle ultime ricerche Guarda Sì Mi segui E' iscritto al nostro canale E sai cosa mi viene in mente adesso No Di dire a tutti quanti quelli Che stanno guardando questo video Di iscriversi al canale In questa maniera Se siete dei nostri veri amici Sarete iscritti al canale E vedrete tutti quanti i nostri video Tu sei iscritta Certo che sono iscritta Robby Anche io Quindi manchi solo tu Robby sto pensando una cosa E se il nostro ladro fosse un musicista Eh magari ha degli audio Delle note musicali Delle note Delle note Magari ha scritto sulle note Le note Certo le note Sì Gli appunti Sì quelli Ok Allora Note e appunti è la stessa cosa Si chiama note Ma che cosa stai dicendo Guardate anche voi Qui c'è scritto Piano segreto Per rapire Dani Un momento Questo significa che Dani è stata davvero rapita Vedi avevo ragione Io lo sapevo dal principio Allora Vediamo C'è una lista di cose Da fare Per poter rapire Dani Numero uno Comprare attrezzi E costume da ladro Oh povera Dani Non posso immaginare Cosa posso aver fatto Numero due Bussare alla porta Di Dani Questo significa che Dani Ha sentito Bussare la porta Ha aperto la porta E poi il ladro è entrato E l'ha rapita Tre Cercare gattini carini Questo non l'ho capito Perché l'ha cercato Numero cinque Portarla al covo segreto Che nessuno conosce In via Giprotti dodici E dov'è Giprotti dodici Non lo so Ma ora lo cerco Ok Guarda Sembra proprio Un covo abbandonato E guarda Non sembra neanche Tanto distante da qui Andiamo a salvare Dani D'accordo Ma dovremo prima prepararci Hai ragione Prendiamo tutto quello Che potrebbe servirci Per salvare Dani Andiamo Jenny Guarda qui che cosa ho preso Con questo il rapitore Se la vedrà con noi Quanto pesa Jenny Sì Perché vuoi portare Tutta la valigetta Del primo soccorso Eh Perché dovremo curare Tutte le ferite Che il rapitore Avrà fatto a Dani Giusto? Che cosa? Il rapitore ha fatto Del male a Dani Io Gliela farò pagare Non mi importa Se Dani Era diventata una bulla Noi la salveremo Ok? Sì Siamo qui per questo Robby Non dobbiamo perdere tempo Andiamo Ok Metti qui dentro Metti qui dentro Come si apre Oh Oh Jenny E adesso La metterò anche Il ridicolo La perfettina Dani Con i baffi L'avete mai vista? Mi fanno male le orecchie Vi prego Levatevi queste cuffie Non ce la faccio più Che cosa stai facendo? Che cosa stai facendo? Ferma Aiuto Cosa stai facendo? Sul mio viso? Mi hai fatto anche dei baffi? Ora Oltre a non sentirci più Sono anche brutta Ti prego Basta Mi hai torturato abbastanza No Non la smetterò mai Non finché non sarò soddisfatta Basta tremare Ora Dobbiamo salvare i danni È importante Va bene Va bene Quindi Ci vuole Coraggio Ok Ci saluto a me Io penso che dovremmo Fingereci dei poliziotti Salve Sono L'ispettore Geremia E siamo qui Per un'ispezione È di polizia Oh no la polizia È arrivata la polizia Com'è finita a chiamarla? Lo sapevo Io ti avevo avvisato Sono venuti a salvarmi Come posso sapere? Non sono tutte Sono qui Sono qui Aspetta Aspetta Ho sentito dei rumori Sono qui dentro Oh mamma Apri la porta Apri la porta Aspetta Ok Stiamo per sfondare La porta Abbiamo un Mandato? Chi ci ha mandato? Abbiamo un foglio Che dice che possiamo Sfondare questa porta Lo stiamo per fare Ok? E abbiamo anche Dei cani Oh no C'è anche il suo uomo Della polizia Ho un piano Noi E' il giro 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 Cosa? Lisa? Ma allora Sei tu che hai rapito Dani? Io? No ma che ragazzi La sto liberando Un attimo Lei la sta liberando E' vero Sì Prima sono passata a casa Perché volevo chiarire con Dani Non mi era piaciuto Come ci eravamo lasciate L'altra volta E ho visto che il caso era tutta sotto sopra E quindi Sono venuta a cercarla Ho trovato un telefono prima però Che diceva che stava qui E sono interessa dalla porta finestra E mi sta laggiù Eh? Cosa? Un'altra porta? Sì Non c'è Lisa? Tu? Tu? Io? Io? Sei una grande Sei riuscita in molto meno tempo rispetto a me E Jenny E trovare Dani E salvarla E comunque Hai anche perdonato Dani Io non riesco a capire Come abbiamo vissuto Tutto questo tempo Senza un'amica come te Cosa sta succedendo? Eh? Il rapitore Elisa Tu come facevi a sapere Che io ero qui? Ti voglio bene Amica mia Dopo ti spiego tutto Proviso Ma quindi Come finisce il ladro? Facci di là Ordi là Ti bevo cercando Sì Andiamo Prendi qui Prendi qui Prendi qui Prendi qui Prendi qui Prendi qui